Paul Pogba è riapparso sui social media. Non sul suo profilo. Ma su quello sua moglie Zuley. Effetti. Ha pubblicato una storia su Instagram con centrocampista della Juventus che. Fermandosi per sospetto caso di doping. Si allena a palestra con sua moglie. 7. Un risultato positivo per testosterone all'assegno effettuato 30 agosto. Giorno Udinese Juventus. Cui i francesi erano rimasti panchina. Pogba era sospeso dal Tribunale Nazionale antidoppiaggio in modo precauzionale.